segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te il governo per voi chiedere una cosa lei è stato simbolo della ferrari insomma perché la ferrari non vince più un mondiale ma ormai fa fatica anche a vincere una sola gara che cosa sta succedendo e qui però lei mi mette il coltello nella piaga perché ferrari insieme alla mia famiglia è la cosa ed è stata io la cosa più importante della mia vita perché io sono stato in ferrari 25 anni in due momenti diversi negli anni 70 facevo l'assistente di enzo ferrari facevo il direttore sportivo abbiamo vinto mondiali con nichi lauda e poi negli anni 90 è un discorso lungo un po doloroso per me perché mi dispiace vedere la ferrari così e non penso che sia una crisi di breve termine perché si tratta di ricostruire quando si tratta di ricostruire si tratta anche di trovare sul mercato i migliori tecnici vede quando io misi insieme la squadra che oggi la chiamano il dream team io pensai di prenderano cinque persone lei pensi che a parte il sottoscritto c'era presi todd domenicali ross brown grande direttore tecnico e rory burn infatti ci arrivò schumacher arrivarono poi arrivò schumacher però arrivò schumacher due anni dopo cioè quando si ricostruiva che il pilota avrebbe fatto la differenza prima anche superman non lo sarebbe anche lì si arrivava da una crisi nera no nera e nerissima però è stata costruita una squadra io mi auguro che questo se anche con grande ritardo avvenga anche andando a recuperare sul mercato alcuni tecnici fondamentali di qualunque nazionalità perché per vincere ci vogliono ci vuole competenza e ci vuole anche di portare un po di cultura in azienda dove magari in certi settori la cultura è meno forte mi dispiace molto anche perché io devo dire la verità quest'anno mi sarei aspettato al di là del discorsi trionfalistici che si fanno sempre sbagliando alle presentazioni delle vetture mi sarei aspettato una vettura più competitiva un'evoluzione di quella dell'anno scorso che soprattutto nella parte prima parte della stagione era molto buona meglio lauda schumacher o leclerc beh per me allora lauda è stato uno degli amici più importanti della mia vita della mia vita abbiamo cominciato a lavorare insieme giovane direttore sportivo io 25 anni giovanissimo pilota lui e abbiamo passato tanti anni insieme anche quando era la mercedes avversari eravamo grandi amici schumacher è stata la pilota che ha vinto di più alla ferrari avevano in comune una cosa quando si vinceva si vinceva tutti insieme quando si perdeva si perdeva tutti insieme spesso ci sono dei piloti che quando vincono merito loro ma quando non vincono colpa della colpa della squadra o della macchina e leclerc è molto bravo è un pilota velocissimo soprattutto sul giro secco è un pilota che sta vivendo un momento molto delicato della carriera perché pur essendo